Sono Raffaella Mangierotti, sono designer e design director. Come designer penso che la sostenibilità ambientale non sia solo utilizzare materiali ecologici, ma anche disegnare meno, disegnare meglio e fare in modo che questi prodotti durino nelle nostre case il più lungo possibile. Disegnare oggetti duraturi non coinvolge soltanto il piano tecnico e materico, ma anche quello culturale ed estetico. Per riuscirci occorre dare più importanza all'innovazione rispetto alla novità, alla consistenza rispetto alla varietà e ai valori veri rispetto alle storie.